Non sarà facile. Di norma avresti attraversato il Clovering Boulevard, ma ora è dura. L'età della città è morta di peste, e l'altra combatte per ciò che resta. La milizia presidia le strade più grandi e ha piazzato muri di luce dappertutto. Che provi ad attraversarne uno te ritrovi fritto come una patata. Le bande occupano tutto il territorio non controllato dalla milizia. E poi ci sono i tipi strani che vivono ai margini, come Nonna Cencia. È una svitata. Non so cosa sia peggio a te, la scelta. Questa è una svitata che viaggi feita. Noi, non ci sono i tipi strani. Non so cosa sia peggio a te, la scelta. Non so cosa sia peggio a te, la scelta. Non so cosa sia peggio a te. andiamo a quasi mezzanotte, vai piano, non farli cadere, il canale fa già abbastanza ehi, cosa c'è? l'ultimo si è mosso mi sembra, cosa? si il piccoletto, impossibile, li ho controllati io stesso, torna al lavoro, beh ora non si muove più uno, due, tre, bene, balla l'altro uno, due, tre, essa ehi, sei isolato e morto di testa meglio loro che voi uno, due, tre il topolino è fuggito qualcuno si aiuta, ti muoverò nel fiume credi addosso aiuto assassino attenzione cadrai aiuto attenzione cittadini di tambor questo è un annuncio speciale da parte dell'onorevole lord reggente vi parla vi parla il lord reggente a forza laddove lo ritengono necessario per abilire l'ordine all'altro peccato e campbell va tutta la nostra gratitudine per i servizi resta al suo ordine 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 per i servizi resta al suo ordine